Tra dieci giorni ci sarà la finale play out e dopo tanti anni di presidenza questa volta ho un brutto presentimento. C'è il duplice fischio dell'arbitro e arriva così la fine del primo tempo Gepard 2 barca zero. Sei un perdente. Sei un cretino! Dopo tutte le volte che ho ricominciato. In alto a destra. Non credevo potesse finire così. Non ho mai vinto nulla. Perché hai chiamato me? Perché non sapevo chi chiamare. L'hai dimenticato. Roberto gioco completamente da solo. Non vale niente. Dai, mangia qualcosina. Grazie a tutti. Grazie a tutti.